La Notte Europea dei Musei è nata in Francia 11 anni fa e coinvolge tutti i paesi firmatari della Convenzione Culturale del Consiglio d'Europa. L'Italia per il quinto anno consecutivo partecipa all'evento coinvolgendo musei statali, civici e private, aree archeologiche, gallerie e biblioteche. Sabato 21 maggio quindi a Fano musei civici e pinacoteca a disposizione di tutti in una serata che si preannuncia densa di appuntamenti ma che vede l'esposizione anche di una parte nascosta del nostro patrimonio culturale. Questo far luce sui depositi, proprio questa anche una iniziativa, risponde a un'esigenza del Ministro Franceschini che, resoci conto ovviamente che un enorme quantitativo di opere giace nei depositi, sollecita tutti ad esporle. È una situazione penso molto percepita dalla città, il grande apporto delle scuole, in particolare del liceo Torelli e del liceo artistico Apolloni che schiererà qui 20 studenti che intratterranno il pubblico, i visitatori facendo vedere l'uso di antiche tecniche di rappresentazione pittoriche e anche illustrando questa piccola ma preziosa mostra temporanea che abbiamo investito nel mese dedicato a Maria, il mese mariano, maggio. La serata sarà lietata da vini pregiati delle cantine Terra Cruda e anche dal jazz di musicisti che ci allieteranno. E poi il sistema museo che devo ringraziare per i bambini, per i più piccoli che sono la risorsa, il pubblico del futuro ma che consentono anche alle famiglie di passare una serata tranquilla, ci sarà un'iniziativa molto bella collegata al colore blu. Quindi si parlerà del colore blu dalla fiaba fino al velo di Maria perché il velo di Maria è blu insomma. Una serata al museo particolare quindi con gli studenti dell'Istituto d'Arte che mostreranno dal vivo le tecniche usate nel Cinquecento e nel Seicento da pittori e scultori. Abbiamo comunque questa grande opportunità di legare la scuola con gli ambienti straordinari come possono essere quelli del museo e altre grandi realtà con le quali collaboriamo che ci permettono poi di far conoscere le realtà ma soprattutto abituare i ragazzi anche a dialogare con istituzioni che sembrano in realtà molto distanti e che in realtà non lo sono perché possono interagire in maniera perfetta anche in maniera curiosa e in maniera accattivante come la notte dei musei.